... Per cui non possono fare la prima comunione. Ma io credo che tra i dettati, perché l'abbiamo fatto il sabato e non il domenica? Perché domani ci sono le prime comunioni, per cui alcune atlete, insomma... Non ci stesse dire e non fanci la pace con il mio falso ma c'è l'ass comprato. Grazie a tutti Un applauso per l'attivenza Rossi! Si sa che domani qualcuno voi ce l'avrete con me? Viva! Un applauso per l'attivenza Rossi! Un applauso per l'attivenza Rossi! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.